Sono tornati in libertà, liberati dalla polizia provinciale con gli agenti Bendinelli, Riboni e Scarsetti e dopo le cure ricevute dal dottor Uberto Calligarice e dalla moglie Alessandra. Sono due caprioli soccorsi lo scorso anno, non vi sveliamo il luogo diventato la loro nuova dimora, per fornire a questi animali tutte le opportunità possibili di reinserimento nell'ambiente senza disturbo da parte dell'uomo. La femmina era stata trovata appena nata a Premeno il 21 maggio. La gente Scarsetti è atteso in vano, diverse ore, l'eventuale ritorno della madre prima di portare la piccola presso la struttura di San Bernardino Verbano dove poi è stata accudita. La capriolina è stata allattata artificialmente mantenuta in cattività per i mesi invernali più difficili per la sopravvivenza, soprattutto per un cucciolo orfano di madre. L'altro capriolo è un maschio ritrovato lo scorso 5 giugno a Trarego Vigiona con avari traumi. allattato e svezzato anche lui è tornato nella natura dei boschi del VCO. Molta attenzione è stata apposata in questi mesi ad evitare il più possibile il contatto con l'uomo dopo lo svezzamento per rendere gli animali poco confidenti e offrire loro maggiori chance di sopravvivenza. Avrete notato nelle immagini un'altra inusuale trotterellante presenza a casa Calligaric. È Jack, cinghialotto portato dai carabinieri forestali di Ginese dopo un investimento ora è tornato decisamente in forma.